Alla Candy, le idee vengono sviluppate con l'esperienza. Candy 98, la nuova lavatrice a orologeria, nata dall'idea dell'orologio. Io regolo l'orologio e lei fa l'ammallo per tutto il tempo che voglio, automaticamente. E poi riprende a lavare, automaticamente. E ha tutto per ottenere un bucato perfetto. E poi riprende a lavare. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.